Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, vertenza Eni, in apertura ancora del nostro telegiornale, 100.000 cartoline da inviare al Premier Matteo Renzi, partiranno nei prossimi giorni da Gela con l'hashtag Matteo Cambiaverso. L'iniziativa è stata promossa da CGL Cislewil a sostegno dei lavoratori per reclamare l'avvio del piano di riconversione dello stabilimento, così come previsto nel protocollo di intesa siglato il 6 novembre 2014. Vediamo. Gela vuole vivere, hashtag Matteo Cambiaverso e per Franco Bollo la dicitura salute Gela lavoro. Sono le cartoline preparate dai sindacati confederali di CGL Cislewil da indirizzare al Premier Matteo Renzi, in merito alla vertenza Eni Gela. Oltre ai presidi, gli incontri, i tavoli tecnici, le riunioni, adesso al fine di attirare l'attenzione del Presidente e del Consiglio dei Ministri, si pensa anche all'invio di ben 100.000 cartoline. Ogni giolese potrà esprimere il proprio pensiero. E noi dobbiamo arrivare a Renzi, dato che noi siamo arrivati soltanto con i presidi, dato che Renzi preferisce andare in Africa e passando dalla Sicilia non si ferma a Gela, noi lo vogliamo a Gela oppure un appuntamento a Roma e noi scriveremo a Renzi che Gela vuole vivere e non morire, con la salute e il lavoro, ciò che tra l'altro è scritto nella cartolina. Queste cartoline verranno indirizzate, le raccoglieremo noi e verranno indirizzate al Premier per dire il disagio che la città di Gela sta vivendo. Lui è uno di quelli che dice che bisogna far cambiare verso a quest'Italia che incominci da Gela. La crisi occupazionale che ha investito Gela non ha precedenti e tutti soffrono. Cosa deve fare il cittadino? Noi faremo un'operazione di questo tipo, faremo dei cazzebo, non solo a Gela per fare questa raccolta di cartoline, per poter esprimere un pensiero, un giudizio rispetto all'avvertenza che abbiamo in atto. Non daremo le cartoline solo ai cittadini gelesi, ma anche a tutto il comprensorio. Andremo a Nescemi, a Mazzarino, perché vogliamo lanciare un messaggio chiaro e vogliamo utilizzare la stessa comunicazione che Renzi ha fatto nelle primarie PD del 2013, dove diceva Italia cambia verso. Noi diciamo a Matteo Renzi, Matteo Renzi cambia verso nei confronti di Gela. Il movimento Noi con Salvini è vicino ai disoccupati e ai cittadini tutti che chiedono oltre al diritto al lavoro, quello alla salute. Dalla lettura del protocollo del 6 novembre del 2014 è emerso che questo non garantisce l'occupazione venuta meno con la chiusura dello stabilimento. Il protocollo infatti prevede l'impiego di 400 persone attualmente impiegate in raffineria di Gela e di 30 risorse per le bonifiche ambientali. Si tratta di un impegno irrisorio a fronte di 3.000 posti di lavoro persi in città e considerando la carenza occupazionale a prescindere dall'esistenza del petrolchimico a Gela. Una proposta come quella accettata nel protocollo non doveva neanche essere presa in considerazione. Un impegno di 30 risorse per le bonifiche ambientali e una forza lavoro così sottodimensionata possono significare soltanto due cose. O l'intenzione di non eseguire le bonifiche a regola d'arte o che questo protocollo è un fuoco di paglia. Non possiamo permettere che Eni dopo decenni di predominio, leggiamo ancora, durante il quale ha deturpato il territorio collocando Gela tra le 5 città più inquinate al mondo, abbandoni la nostra città lasciando una scia di morte e fame. E' giusto farsi sentire per ottenere il rispetto del diritto al lavoro, non calpestando quello alla salute, ma fa rabbia vedere un corteo di vittime carnefici l'una a fianco all'altro. Come mai non si è manifestato dissenso alla firma del protocollo? Se le istituzioni ed Eni, dice il movimento Noi con Salvini, non si impegneranno a rimodulare gli interventi su Gela, resta soltanto la via della chiusura dei rubinetti al colosso petrolifero da parte della cittadinanza attraverso il blocco dei pozzi di perforazione, costringendo così Leni a mantenere gli impegni assunti negli anni in cui si prometteva il mantenimento dell'occupazione e rispetto dell'ambiente e della salute umana. Il protocollo del 2014 è una scatola vuota. Ieri consiglio comunale è infuocato, i consiglieri comunali del Partito Democratico si autosospendono dal partito fin quando il governo nazionale non prenderà decisioni immediate e concrete sulla vertenza Gela. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto all'amministrazione di interrompere gli incontri istituzionali per rimarcare ancora di più il livello della protesta. Non ci possono essere trattative se sul tavolo non ci sono chiari progetti di bonifica e risanamento dell'area di Gela. Vediamo. Immediata autosospensione dal Partito Democratico fin quando il governo nazionale non prenderà decisioni immediate e concrete sulla vertenza Gela. I consiglieri comunali del PD fanno sul serio e ieri sera durante i lavori della Sise Civica hanno manifestato il loro malcontento nei confronti del Premier Renzi e come dicevamo si sono autosospesi. Non siamo assolutamente soddisfatti della missione che abbiamo fatto a Roma perché per tre mesi di cassa integrazione non andavamo a perdere due giorni. C'è stato un gesto con il quale vogliamo porre all'attenzione del partito, in particolar modo del Vice Secretario nazionale onorevole Lorenzo Guirini, il disagio dei lavoratori e di un'intera comunità. Ma come potrebbe intervenire il Premier Matteo Renzi per risolvere definitivamente quella che ormai è stata definita una vera e propria emergenza riconducibile all'avvertenza Gela? Io sono convinto che Gela è un caso straordinario e bisogna intervenire con gli stessi strumenti legislativi che sono stati adottati per Bagnoli e per Tarondo. È una legge ad hoc, una legge speciale, provvedimenti straordinari per dare rispiro ad un territorio che sta soffrendo veramente una crisi economica senza precedenti. Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle ha chiesto all'amministrazione di interrompere gli incontri istituzionali per rimarcare ancora di più il livello della protesta. Non ci possono essere trattative se sul tavolo non ci sono chiari progetti di bonifica e risanamento dell'aria di Gela. Il futuro industriale di questa città, dicono i grillini, passa dalla capacità di attrarre investimenti che possono cambiare l'economia della città. Nessuna azienda deciderà di scommettere su un sito inquinato senza che prima vi siano state le dovute attività di risanamento. Nessuno investirà i propri soldi per risanare danni altrui. Per questo motivo la politica e tutta la città devono pretendere che partano le attività di risanamento per poter avere lavoro futuro e a lungo termine. Non può essere accettata la politica di Enia e del protocollo d'intesa. Oltre 2 miliardi presunti di investimento su Gela, di cui 1 miliardo e 8 solo per le trivelazioni a mare. Eni lascia solo 400 mila euro per bonifiche e raffinerie verde, non prevede un progetto di riconversione a lungo termine e forse promette qualche posto di lavoro per pochi mesi. Il gruppo consigliare chiede inoltre all'amministrazione di non accettare questa strategia industriale. Chiede di pretendere che si metta in campo una vera politica di riconversione che permetta alla città di crescere nel futuro e di attrarre investimenti. L'accordo di programma può diventare questo strumento e per questo motivo va condiviso e sviluppato sul territorio. Ad Eni diciamo, chiude la nota, che se vuole investire su Gela lo faccia destinando integralmente i 2 miliardi e 200 milioni di euro sulle attività di bonifica e risanamento. Questo potrebbe essere un vero inizio per il cambiamento. E dopo gli operai dell'indotto Eni la mobilitazione generale scatta anche tra gli agricoltori locali. Giovedì prossimo alle 9 un corteo di trattori e mezzi pesanti partirà da Via Palazzi per raggiungere il comune. Agricoltori e associazioni di categoria contestano l'aumento del costo delle forniture idriche deciso dai funzionari del consorzio di bonifica per andare incontro alla paventata autonomia decisa a livello regionale. Al corteo hanno deciso di partecipare gli agricoltori aderenti alle organizzazioni UPA, UNSIC e all'associazione Santa Maria. Tra le rivendicazioni c'è anche l'abolizione del limu sui terreni agricoli e la richiesta della dichiarazione dello stato di calamità naturale a causa della continua siccità. Una delegazione al termine del corteo incontrerà i sindaci del comprensorio e i deputati regionali. Da tempo gli agricoltori lamentano disfunzioni e anomalie soprattutto nella gestione delle forniture idriche che starebbero portando al declino di tante piccole e medie aziende del settore. Cambiamo argomento, parliamo del convegno sulla donazione degli organi che ieri si è svolto nell'auditorium dell'Iceo Classico di Gela. Presente anche Reginal Green, il papà del piccolo Nicolas, 7 anni, vittima nel 1994 di un assassino sull'autostrada A3, Salerno, Reggio Calabria, mentre era diretto in Sicilia con i genitori. Gli organi di Nicolas vivono in 7 persone. Vediamo. Preside, oggi è un appuntamento davvero molto importante. La Sicilia, l'Italia intera, deve molto a quest'uomo. Sì, perché il suo gesto, perdendo un figlio tragicamente, non per un incidente, ma proprio per la malavita organizzata, con la sua decisione sia aperta in Italia la discussione sulla donazione degli organi che non deve essere un fatto individuale, ma deve diventare un fatto culturale. Da questo abbiamo cercato di ribadire, nella speranza che questi incontri coinvolgendo adulti e giovani possano fare quella commistione fatale che consenta a tutti di acquisire la cultura della donazione. Lui pensa che nessun'altra regione nel mondo ha mai mostrato una partecipazione tale e lui è veramente soddisfatto per questo. Questo è particolarmente il modo riguardo alla Sicilia, forse perché appunto Nicolas è morto a Messina. Prima della morte di Nicolas non c'era stata mai nessuna organizzazione che si fosse occupata della donazione degli organi. Dopo questo evento il numero è esploso e questo chiaramente è stata una soddisfazione in un tragico evento. Ancora la Sicilia è al di sotto di quelli che sono la percentuale delle donazioni rispetto all'Italia e all'Europa. Consiglio spera che venendo qui ancora una volta possa dare un'influenza a che la donazione sia più numerosa. Qual è l'importanza di comunicare questi messaggi ai più piccoli? I più piccoli perché poi quando possono dare questo messaggio ai loro genitori e quando ci sono questi eventi così traumatici per una famiglia magari dare la parola di conforto e capiscono la problematica. Noi nelle scuole ci andiamo sempre e ora ricominceremo quest'anno a rifrequentare gli istituti e dare questi messaggi veramente a tutti i ragazzi di Gela. Il nostro ospedale ha raggiunto delle posizioni importantissime al secondo posto in Sicilia. Quindi era impensabile. Ai tempi di Green non sapevamo neanche di che cosa si stava parlando e invece abbiamo fatto dei passi della gigante. Un grande esempio di generosità e di altruismo. Un mito per me il signor Reginald Green perché il bambino se n'è andato e non aveva che tipo di decisione l'ha presa la famiglia e ha dimostrato di essere una famiglia di un livello culturale altissimo. I componenti del comitato Gelensis Populus fanno sentire la loro voce sulla lunga attesa del nuovo pronto soccorso nelle vesti di ammalati in attesa di prestazione davanti alla struttura che dovrebbe contenere il nuovo reparto. Hanno cercato di sottolineare come ancora adesso tutti i buoni propositi da parte del direttore sanitario dell'ASP CL2 Carmelo Iacono per migliorare la struttura ospedaliera del Vittorio Emanuele non siano ancora stati realizzati come l'inaugurazione della breast unit o della UTIN o del nuovo pronto soccorso che doveva realizzarsi entro gennaio. Il comitato aveva già inviato il 12 gennaio scorso al direttore sanitario una richiesta di informazione sullo stato dei lavori ma finora nessuna risposta è arrivata. Ci piacerebbe che alle parole seguissero i fatti hanno riferito quei fatti che daranno i servizi ai cittadini. Nel mese di dicembre scorso durante una riunione con il manager sono stati elencati una serie di spostamenti di reparti di inaugurazioni di nuovi e di una futura cittadella della salute ma fino ad ora tutto questo è rimasto sulla carta. Intanto fino ad oggi si registrano disservizi presso il Vittorio Emanuele dove proprio al quarto piano quello della ortopedia che dovrebbe essere spostato i pazienti lamentano da un po' di tempo una serranda rotta alla stanza numero 5 che impedisce ai ricoverati di vedere la luce del sole. Cerimonia di premiazione ieri del concorso I giovani e la strada ricordo di Stefano Ascia, liceo scientifico Elio Vittorini di Gela. Un momento toccante in memoria dello studente che lo scorso 18 maggio ha perso la vita in un incidente stradale. Il concorso è stato vinto dagli alunni delle terze A e B del primo comprensivo. Secondo posto ex equo per Rosaria Smorta e Iris Ciaramella, sempre del primo comprensivo, e per la terza H della Quasimodo. Un premio è stato vinto anche dalla scuola. San Francesco, vediamo. Spesso la vita ci insegna in maniera crudele e ci lascia dei messaggi molto importanti. Quale messaggio e quale insegnamento dalla storia di Stefano? In realtà non potevamo spezzarci nessuno di noi quello che sarebbe successo. L'insegnamento è stato grande per tutti noi. In molti, per più di una settimana, per molti mesi addirittura, non abbiamo più toccato i nostri mezzi. Neanche per andare a scuola. Io stessa, che guido il motorino, è stata abbastanza difficile per me continuare ad andare avanti. Per superare la cosa ci abbiamo messo abbastanza tempo, però lo ricordiamo e sappiamo che se il destino ha deciso che lui doveva andare in cielo in un modo o nell'altro, sappiamo che adesso è più felice. Non voglio ricordarlo sinceramente per quello che è successo. Io ricordo la persona che in realtà lui è stata. I momenti passati con lui, quante volte abbiamo potuto litigare in classe. preferisco ricordarlo per la meravigliosa persona che era realmente. Com'è cambiata la vostra vita dall'indomani? In tutto. Intanto nel goderci anche la classe come gruppo, per comunque passare dei momenti belli tutti insieme, senza sprecarne neanche un attimo anche a scuola, perché soprattutto è il luogo che unisce tutti i compagni di classe. Vogliamo divertirci tutti insieme perché quello che abbiamo passato è stato veramente brutto. Spero non accada a nessuno. Bisogna comunque passare dei bei momenti in famiglia, a scuola e con qualsiasi altra persona, perché improvvisamente, come è successo a noi, può andare via una persona importante all'interno della classe. Nella comunità scolastica è cambiato davvero tanto? Sì, perché sono fatti che non ci si aspetta. Eventi che nessuno di noi vorrebbe vivere, soprattutto in una fascia così delicata, in un'età così giovane. Tuttavia, per far sì che questo evento non passi inosservato e che i giovani tendino a consapevolizzarsi nell'uso dei mezzi, perché è chiaro che i mezzi vanno usati, nessuno può togliere le moto ai ragazzi, però è necessario che si abituini al rispetto delle regole e che l'educazione venga proprio nell'età più delicata, che è quella dai 13 ai 14 anni. Ecco perché ho voluto questo concorso rivolto ai 13 anni e non ai ragazzi liceali, perché i liceali già hanno acquisito le abitudini, buone o cattive che siano. I gelesi che hanno richiesto di fruire del servizio di assistenza domiciliare devono presentare entro il prossimo 12 febbraio all'Ufficio di Segretariato Sociale del Comune di Gela l'attestazione in corso di validità dell'Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente. Lo ha reso noto l'assessore comunale Servizi Sociali, Licia Abela. Il mancato adempimento agli sportelli di Viale Mediterraneo invaliderà le istanze inoltrata lo scorso mese di gennaio da ultra 65 anni e portatori di handicap gravi ai quali è riservato il servizio di assistenza domiciliare mediante voucher sociale. Sarà celebrata oggi alle 18.30 in Chiesa Madre a Gela la messa in onore della beata Maria Cristina di Savoia. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Maria Cristina di Savoia, preseduta da Flora Montana. Ci fermiamo, c'è la pubblicità tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale che apriamo parlando dell'incontro sulla legalità promosso all'istituto scolastico Ettore Romagnoli e alla presenza del comandante del reparto territoriale dei Carabinieri, il maggiore Valerio Marra. C'eravamo anche noi, vediamo. Si è parlato di uso di stupefacenti ed abuso di bevande alcoliche tra gli adolescenti questa mattina nel corso delle attività di educazione alla legalità e alla salute nell'aula magna dell'istituto scolastico Ettore Romagnoli di Gela. I ragazzi delle classi terze hanno incontrato il comandante del reparto territoriale dei Carabinieri, il maggiore Valerio Marra. È importante parlare ai ragazzi, soprattutto in un'età molto particolare della loro vita, 14 anni, sono ragazzi di terza media e ai ragazzi spiegheremo cosa fa l'arma dei Carabinieri per garantire la sicurezza dei cittadini, quindi anche dei minori. E soprattutto daremo dei consigli importanti e utili per la loro vita futura, anche sull'abuso di sostanze alcoliche, sull'uso di sostanze stupefacenti, quali rischi comportano da un punto di vista soprattutto giuridico. E cercheremo di far capire che il Carabiniere è vicino al cittadino e quindi vicino anche ai ragazzi. Il concetto di legalità, dice il dirigente scolastico Sandra Scicolone, comincia proprio tra i banchi di scuola. Già all'interno della scuola primaria si iniziano a dare elementi prodromici a quella che sarà l'educazione di un cittadino a vivere civilmente in collaborazione con gli altri e in convivenza con gli altri. La legalità per noi è fondamentale come proprio, diciamo, pilastro della nostra azione educativa. La Romagnoli ci lavora costantemente. Oggi, con il Maggiore Marra, affrontando un tema molto delicato, qual è quello dell'uso degli stupefacenti e delle bevande alcoliche, anzi dire l'abuso delle bevande alcoliche tra gli studenti. Magari non è un problema che riguarda i nostri studenti, ma che potrebbe già riguardarli, sapete, alle soglie di quel quattordicesimo anno, di quel quindicesimo anno, in cui l'adolescenza ti dà quasi l'autorizzazione a poter fare determinate cose, ad assumere determinati atteggiamenti. Questa è un'azione ovviamente preventiva, ma rientra, continuo a dire, nella fondamentale ragione dell'esistenza di un servizio pubblico come la scuola. Sono aperte le iscrizioni all'Istituto Tecnico Luigi Sturzo di Gela, diretto da Grazio Di Bartolo, settore economico, settore alberghiero. Per informazioni bisognerà rivolgersi direttamente al personale della Segreteria in via Ettore Romagnoli, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e il martedì dalle 15 alle 18. Domani, dalle 16.30 alle 18.30, nell'ambito delle iniziative dell'Open Day, i docenti e gli alunni del liceo classico Eschilo di Gela accoglieranno i genitori e gli alunni delle terze classi delle scuole medie per far conoscere la scuola e la sua offerta formativa. È previsto uno spettacolo a cura degli studenti. Avranno inizio domani nella Chiesa di Sant'Agostino a Gela i sette mercoledì di San Giuseppe. Verranno celebrate due messe, una la mattina alle 9, preceduta da preghiere e canti in onore del Santo Patriarca, e un'altra la sera alle ore 18. Giovedì 4 febbraio invece sempre nella Chiesa di Sant'Agostino. Cominceranno i 15 giovedì di Santa Rita. Anche in questa occasione saranno celebrate due sante messe, alle 9 e alle 18. Il 22 maggio, giorno della festa dedicata alla Santa di Cascia, presiderà una solenne messa in Piazza Sant'Agostino, il vescovo Monsignor Rosario Gisana con la benedizione delle rose. Proseguono gli appuntamenti musicali a Palazzo Principessa Pignatelli di Gela. Domenica 7 febbraio, alle 19, concerto pianistico a quattro mani con Sara Musumeci e Tiziana Terranova, il direttore artistico della manifestazione e il maestro crocifisso Ragona. Appuntamento col teatro al Comunale Eschilo di Gela. Sabato 6 febbraio, alle 17.15, alle 21.15, Maglio Dovie e Matilde Brandi si esibiranno in Spettacoloso con Cosimo Coltraro e Ciro Pusateri. Per informazioni 093-911-892 oppure 345-5880-580. Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Ernesto Maria Ponte, lasciate libero lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia. Il botteghino rimarrà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Prossimo spettacolo con Ernesto Maria Ponte, il 17 febbraio prossimo. Appuntamento col teatro all'antidoto di Macchitella Gela. Domani e giovedì 4 febbraio alle 21.30, la compagnia Gittimaio porterà in scena Oggi Sposi di Pietro Barbaro. Per informazioni contattare il numero 093-3822-707 oppure 338-7143-293. Con il teatro è tutto anche per oggi. Grazie per la gentile attenzione. Vi ricordiamo che notizie, servizi e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale web all'indirizzo www.tg10.it. Vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato. Grazie, arrivederci. Grazie.